Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. Oggi prima giornata nazionale, il ricordo delle vittime del Covid, celebrazioni solenni a Bergamo questa mattina, città simbolo della tragedia. Spazio anche alla cronaca con l'operazione della guardia di finanza che scopre la truffa di alcuni albergatori, identificati invece dai carabinieri otto minori che hanno danneggiato l'edificio commemorativo di Giancarlo Siani a Napoli. In chiusura lo sport con la Turris, una boccata d'ossigeno per i corallini che vincono in casa contro il Catania. Questo è molto altro, guardiamo i servizi. Prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Era il 18 marzo dell'anno scorso, tutta Italia era già stretta nel lockdown e il virus iniziava a mostrare la sua reale pericolosità. In quel giorno un'immagine si impresse per sempre nei ricordi di tutti. Decine di camion militari per il trasporto merci che sfilano per le deserte strade di Bergamo. Il carico dei convogli erano salme di tutte le prime vittime della pandemia nella zona, troppi e troppo infettivi per poter ricevere un ultimo addio più decoroso. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato questa mattina la legge approvata ieri dal Parlamento che istituisce la giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus, che verrà celebrata a partire da oggi, il 18 marzo di ogni anno. Intanto Bergamo accoglie il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha scelto la città simbolo per celebrare la nuova commemorazione. Prima la visita al cimitero monumentale per deporre una corona di fiori davanti alla stelle delle vittime su cui è incisa una poesia di Ernesto Olivero e dove anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha posto una corona di fiori lo scorso 28 giugno. Poi il Parco della Trucca, per l'inaugurazione del Bosco della Memoria, con la piantumazione di un tiglio donato dal comune di Buccari, nel Siracusano. Il progetto del bosco, con 750 alberi e piante ad organizzare una serie di isole verdi e aree attrezzate, nasce da un'idea dell'Associazione dei Comuni Virtuosi, finanziata dal comune di Bergamo e dal crowdfunding, che da solo ha raccolto finora 110.000 euro. Fra le donazioni, anche quelle di Francesco Guccini, dei Nomadi e della Foppa Pedretti, che ha stanziato 20.000 euro. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su disposizione del GIP del Tribunale Partenopeo, ha eseguito tra Napoli e Giuliano in campagna il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziaria di oltre 1.500.000 euro, nei confronti di un gruppo imprenditoriale operante nel settore dei servizi di accoglienza ai migranti. Turbata libertà degli incanti e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sono i reati ipotizzati dalla Procura della Repubblica di Napoli, a carico di diversi imprenditori del litorale Domizio, noti per i loro moltiplici interessi commerciali nel campo della ristorazione e della ricezione turistico-alberghiera. Gli indagati, infatti, con la propria condotta, avrebbero indotto in errore con artifici e raggiri la pubblica amministrazione percependo indebitamente un importo complessivo superiore a 1.500.000 euro, corrispondente al valore dei beni e delle disponibilità finanziarie oggetto dell'odierno provvedimento. In particolare i responsabili, approfittando dell'emergenza causata nel 2015 dagli ingenti flussi migratori, avrebbero utilizzato documentazione falsa allo scopo di attestare il possesso dei requisiti necessari per l'aggiudicazione della gara pubblica indetta nello stesso anno dalla Prefettura di Napoli, per garantire i servizi di accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Più in dettaglio, nel corso delle investigazioni svolte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Napoli, è emerso che l'immobile messo a disposizione per i servizi di accoglienza era di fatto una struttura abusiva, successivamente condonata, dichiarata ai fini urbanistici quale sala per banchetti, priva del numero minimo di servizi igienici, attestato da false perizie e che pertanto non avrebbe mai potuto essere ammesso al bando. Approfittando della grave emergenza causata dagli ingenti flussi migratori e con la compiacenza di un ufficiale sanitario e di un ingegnere, alcuni imprenditori avevano dichiarato di possedere una struttura idonea ad ospitare oltre 350 migranti ed erano così riusciti ad ottenere un milione e mezzo di euro per ospitare i migranti da maggio a dicembre. Le investigazioni condotte dai militari della Guardia di Finanza hanno portato alla luce una stratificazione di condotte irregolari ed illecite che hanno consentito alla Procura della Repubblica di Napoli di contestare turbata libertà di incanti e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. I carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno individuato e denunciato per danneggiamento otto minori. I ragazzi sono ritenuti responsabili del danneggiamento nella serata del 5 marzo scorso del pannello posto all'esterno della Fondazione Polis in ricordo di Giancarlo Siani, colpendolo ripetutamente con un pallone. I minori, non imputabili perché di età inferiore ai 14 anni, sono tutti residenti nelle vicinanze del luogo dove è stato effettuato il danneggiamento e si sono presentati alla caserma Pastringo accompagnati dalle rispettive mamme. Hanno riferito di non conoscere il significato del pannello danneggiato e si sono mostrati rammaricati e pronti a risarcire il danno causato. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, d'intesa con la Procura per i minorenni di Napoli, li ha quindi segnalati al predetto ufficio. Verrà organizzato, in accordo con la Fondazione Polis e con le famiglie dei ragazzi che si sono dimostrate ampiamente collaborative, un incontro con i ragazzi nella sede della Fondazione per approfondire le importanti tematiche di cui si occupa e per fargli conoscere l'importanza della figura di Giancarlo Siani e di ciò che rappresenta. Boccata ad ossigeno per la Turris che superano sul proprio campo il Catania per 1-0. I Corallini partono bene con Longo e Tascone che provano a impensierire gli etnei da fuori aria, ma il diciottesimo è lo stesso Longo che, in mischia da calcio d'angolo, trova il guizzo vincente per il vantaggio dei suoi. Gli uomini di Caneo insistono e sfiorano ancora il gol con Romano e con Giannone che manca di poco il bersaglio dai 20 metri. Nel secondo tempo il Catania si fa vivo e trova il calcio di rigore per un ingenuo fallo di Romano su Calapai, ma dal dischetto a Bagnale compie la prudezza respingendo il tiro di Piccolo e tiene così in vantaggio la Turris. I padroni di casa superato il pericolo si riversano in avanti e vanno vicini al raddoppio prima con Giannone e poi con Franco che vede deviata la sua conclusione in angolo. Ma è di piazza a mancare la clamorosa occasione per il pareggio dei Rosso-Azzurri da centro area e nel recupero è Clayton a graziare il portiere Corallino. Finisce quindi con il successo dei Corallini che ritrovano i tre punti dopo tre sconfitte e allontanano per il momento il rischio play-out. Il ritiro voluto dal presidente Colantonio sembra aver avuto l'effetto sperato in vista anche dei prossimi impegni. La Turris domenica osserverà il proprio turno di riposo e tornerà in campo il 28 marzo sempre a Liguri contro il Catanzaro. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it chiamando al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani.